carne alla pizzaiola troppo saporita uno dei miei secondi di carne preferiti con un sughetto super goloso utilizzo quattro fette di costata di manzo senza osso preparo un sughetto con olio degli spicchi d'aglio un barattolo di pelati a pezzettini aggiungo gli odori origano secco salvia rosmarino e sale realizzo un sughetto ben ristretto aggiungo le fettine di carne che devono cuocere veramente pochissimo una voltata e una girata infine unisco una manciata di olive verdi denocciolate lascio cuocere per un altro minuto ed ecco qua miei carissimi amici pronto il fantastico piatto di carne alla pizzaiola la scarpetta è d'obbligo un piatto semplicissimo cosa aspettate provatelo subito grazie a tutti Grazie a tutti.